Grazie a tutti. Allora, intanto ciò di cui parlerò essenzialmente è parte di un progetto europeo, quindi parlerò molto di fotonica proprio per questo, perché lo scopo di questo progetto è portare il pubblico verso la concezione di fotonica. L'idea della fotonica è che nel ventunesimo secolo la fotonica sarà quello che è stato l'elettronica per il ventesimo secolo, quindi la manipolazione di fotoni diventerà una cosa semplice come la manipolazione degli elettroni che abbiamo adesso, insomma questa è l'idea principale. All'interno però di questo progetto c'è una parte interessante che riguarda un impatto capillare attraverso molti media diversi, fra cui il gioco, ed è la parte di cui vi parlerò. La storia è un po' più vecchia, in realtà nasce da una passione per i giochi insieme ad un'attività di divulgazione scientifica, è un esperimento cercando di costruire un gioco sui principi della meccanica quantistica. Il gioco è Quantum Race, se domani avete la possibilità potete anche vederlo praticamente, è un gioco molto semplice in realtà, una corsa di auto simulate attraverso un percorso a caselle, con la caratteristica che però queste auto sono quantistiche, cioè si possono delocalizzare lungo il percorso, cioè trovarsi contemporaneamente in più caselle, questo viene rappresentato utilizzando dei segnalini colorati e numerati che indicano dove si potrà trovare la macchina. Ma poi secondo i principi della meccanica quantistica, se nell'istante in cui avviene un'osservazione, la macchina può ricollassare, tornare a essere classica e quindi ritrovarsi in una posizione ben precisa. Questo non piaceva ad Einstein, perché come sapete diceva Dio non gioca a dati con l'universo, cioè non accettava la rottura del meccanicismo, la casualità intrinseca nell'universo, che invece sembra proprio esserci. Altra cosa, c'è l'effetto tunnel, c'è la possibilità che una parte di questa funzione d'onda, cioè questo oggetto astratto che descrive questo sistema quantistico, che può essere un fotone, un elettrone, un'auto quantistica, possa passare attraverso muri. Queste sono cose che sperimentiamo quotidianamente, insomma nella nostra pennina USB viene utilizzato questo effetto come nella fotocellula di un ascensore o in qualunque altro oggetto del genere. Questo gioco è stato prodotto in vari formati, il più divertente era una versione live, grossa come una stanza in un ambiente bellissimo, un vecchio monastero di Genova, una versione large, diciamo abbastanza grande, e poi varie versioni da tavolo, con varie prove, varie sperimentazioni, vari affinamenti. Il lancio di questo gioco è avvenuto con il premio Archimede del 2010, che ringrazio anche questo evento. Successivamente abbiamo provato anche altre attività di questo tipo, per esempio un gioco per provare a spiegare i lab on a chip, le nanobiotecnologie, quindi in particolare quello che succede qui abbiamo una specie di labirinto, che è quello che avviene realmente in un microchip, in cui si può studiare il sistema immunitario che aggredisce dei batteri, per esempio. Quindi qui c'era un ruolo che veniva interpretato dai partecipanti, che erano parte del sistema immunitario, macrofagi, oppure dei batteri aggressori, i macrofagi dovevano aggredire questi batteri. Un'altra esperienza più recente è Time Race, un gioco basato sulla teoria della relatività. Anche qui un semplice percorso, in cui però ogni astronave, di ogni giocatore, ha un orologio interno, che dipende dalla velocità. Quindi più si va veloce, più il tempo scorre lentamente. E questo portava a dei paradossi anche piuttosto frustranti, per cui succedeva che magari la prima astronave a passare il traguardo perdeva perché aveva messo più tempo degli altri. E quindi diventava particolarmente potente come strumento didattico per spiegare concetti particolarmente ostici, astratti. Quindi in quest'ultimo caso abbiamo cominciato a provare a fare qualcosa di più sistematico, a fare delle misurazioni. Ci siamo fatti aiutare dalla dottoressa Nesti di Firenze. Abbiamo in qualche modo provato a misurare l'impatto, un'autovalutazione con una conoscenza sulla relatività ristretta prima e dopo notando che insomma c'è un certo impatto, un notevole impatto. Insomma in qualche modo c'è un'esperienza personale, quello che succede è un fallimento che può portare a capire che succede. Quindi la nostra esperienza ci ha portato a considerazioni abbastanza ovvie, nel gioco c'è motivazione, c'è immersione. Nel nostro caso specifico c'è l'uso di metafore che nel momento in cui uno deve spiegare concetti complessi come la meccanica quantistica diventa importante perché la meccanica quantistica è difficile spiegarla se non ho basi matematiche molto forti perché io vi posso spiegare la funzione d'onda, ma che cos'è la funzione d'onda? Un oggetto matematico descritto da un'equazione, l'equazione di Schrödinger e così via dicendo. Se io ho delle metafore da far provare, da far sperimentare, poi ho degli strumenti per raccontare come stanno le cose veramente. Infatti abbiamo sperimentato che ciò che funziona molto è portare le persone prima a giocare senza raccontare nulla di che cosa c'è sotto, quindi spiegare le regole del gioco, far giocare, sperimentare. Dopodiché quello che succede è che l'animatore, chi è lì a spiegare, a raccontare il gioco, viene sommerso di domande. Quindi in qualche modo gli viene tirata fuori l'essenza del gioco, la natura del gioco. Quindi anche questa è stata un'esperienza molto piacevole, molto positiva, è stato molto divertente vedere una famiglia uscire da una di queste prove, sessioni di gioco, che parlava, parlottava e parlavano di meccanica quantistica come se parlassero di politica o di calce. Una delle esperienze più belle come divulgatore, insomma. E poi ancora una cosa importante che abbiamo sperimentato è la sospensione dell'incredulità. Quando si gioca, un giocatore è disposto ad accettare qualunque cosa. Quando si parla di meccanica quantistica, un po' meno con la relatività, uno dei problemi principali è che si parlano delle cose che sono lontanissime dall'esperienza quotidiana. Io ho difficoltà a spiegarvi che un elettrone può trovarsi contemporaneamente in più punti, perché nessun oggetto nella realtà che sperimentiamo quotidianamente può farlo. Ma in un gioco si può accettare anche questo. Allora io ho prima l'esperienza di gioco, dopodiché mi baso su questa esperienza che è stata accettata dal giocatore per raccontare come si comporta la natura, come funzionano veramente le cose. Quindi questo è stato veramente uno strumento molto utile e potente. E poi una cosa molto importante, che a me piace molto, dei giochi da tavolo, per esempio, rispetto ai videogiochi, che comunque sono strumenti fondamentali e utilissimi per questo tipo di attività, è l'aspetto più sociale e legato ai tempi morti. Quando io gioco devo aspettare, per esempio, la mossa degli avversari. Sono portato magari a pensare a cosa sta succedendo, a parlare. Se c'è un animatore può approfittare di questi momenti per introdurre in modo quasi naturale delle spiegazioni e quindi funzionano molto bene per questo i giochi da tavolo. A questo punto ci siamo chiesti, ma si può provare a fare un passo ulteriore? Usare non solo i giochi da tavolo per raccontare la scienza, ma usare il game design, la costruzione di giochi da tavolo per raccontare la scienza. Naturalmente questa è una cosa abbastanza interessante, perché per poter costruire un gioco da tavolo che racconti la scienza, uno deve aver capito ciò che vuole raccontare. Quindi ci si deve immergere in prima persona dentro, deve approfondire le materie che vuole trattare, perché deve farsi venire idee, cosa non banale. Deve avere padronanza delle tematiche ed è costretto a discutere con altri questa costruzione. Allora, questo è avvenuto in due fasi successive. Prima di tutto un laboratorio che si è tenuto al Festival della Scienza di Genova del 2015, un laboratorio per la creazione di un gioco da tavolo che parlasse di luce, di fotonica. L'attività era così strutturata, veniva inizialmente preso un gioco molto semplice, il gioco dell'oca, veniva completamente destrutturato, smontato in pezzi, in qualche modo venivano dati degli spunti legati alla luce, varie possibilità, veniva fornito del materiale, e a questo punto i giocatori potevano reinventare questo gioco, arrivando anche a forme particolarmente complesse, naturalmente con la raccomandazione che il gioco non era tanto l'oggetto che avevano davanti, quanto il complesso di regole che andavano a costruire. E l'esperienza è stata molto positiva e, devo dire, divertente. Sono usciti dei prototipi interessanti, pur essendo giocato su tempi molto stretti. La fase successiva ha riguardato un concorso, un concorso chiamato Fotonica in gioco, legato al progetto europeo di cui vi parlavo, un concorso che si è chiuso il 31 gennaio di quest'anno, rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane, che aveva come tema la creazione di un gioco da tavolo sulla luce. È stata un'esperienza un po'... Diciamo che ero molto preoccupato all'inizio per questo esperimento, perché sapete che i giochi da tavolo non sono così diffusi, specie nel periodo delle scuole superiori. Poi creare un gioco da tavolo non è un'attività così familiare alle persone, e poi un gioco da tavolo con un tema così specifico come la fotonica e la luce. E invece la cosa ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo avuto 28 giochi presentati, un po' da tutta Italia, quindi siamo molto soddisfatti. Soprattutto siamo soddisfatti per quello che è stato presentato, perché la qualità dei giochi è molto alta, i giochi sono molto belli. I ragazzi che hanno partecipato hanno dimostrato una capacità che... Diciamo che li abbiamo sottovalutati all'inizio. La premiazione finale avverrà in occasione del premio Archimede, di cui parlavamo prima, che è un'ottima occasione per inventori di giochi. Grazie mille. Allora, a questo punto vi faccio vedere qualche foto dei giochi prodotti. Questo è un gioco in realtà molto semplice, è un gioco dell'oca in cui però i personaggi sono stati realizzati, diciamo, progettati e realizzati con carta dagli studenti. Questo è un liceo artistico che ha prodotto un gioco basato... Parlando di luce e arte, per esempio, è una cosa meravigliosa, quindi non solo luce scienza ma luce arte. Quindi una serie di domande basate essenzialmente sul Caravaggio e l'uso che fa della luce. Un altro gioco molto bello, è abbastanza originale, basato sulla fuga dei fotoni che scappano via dal nucleo del sole dove vengono prodotti. Insomma, una galleria di giochi di vario tipo in cui viene usata anche la tecnologia, laser, specchi. È un'esperienza veramente notevole. Giusto per darvi un'idea di che cosa sono riusciti a realizzare questi ragazzi. Anche qui abbiamo provato a fare una misura dell'impatto del concorso, molto semplice, molto elementare, che si è rivelata positiva. Adesso vorremmo un po' approfondire questo tema e per questo chiedo collaborazione a chi si occupa seriamente di questo tipo di lavoro, perché noi non siamo di questo campo. Quindi siamo molto soddisfatti di questa esperienza e vorremmo cercare di, in qualche modo, portarla avanti in modo un po' più serio, appunto cercando di usare il game design, il gioco e il disegno del gioco, proprio come strumento per questo tipo di attività. Quindi in conclusione i giochi da tavola hanno dimostrato di essere strumenti particolarmente efficaci per raccontare la scienza, anche concetti molto astratti e complessi. Il disegno di giochi da tavola ha mostrato anche di essere, anzi forse ancora di più, di essere uno strumento molto potente e efficace. La competizione fotonica in gioco è agli ultimi momenti, insomma. E io vi ringrazio per l'attenzione. Applausi Applausi Grazie.